Il libro di Maria Bennet ha una fragranza floreale e una completezza culturale e cultuale, che ingloba, per esempio, misticismo di Rumi e tradizione poetica di Wordsworth, e che cita e celebra anche voci femminili come quella di Tilly e Olsen. In un oceano sensorialmente molto ricco, la poetessa e il suo doppio personaggio si sente, dice e vive così, navigo. Leggera come un cigno. In vilico tra ricordo e attesa, tra i versi di Bennet si fluttua tra menzioni di artisti e personalità come Anna Pavlova, Pablo Neruda, Buddha, Confucio, Montessori, Dante, fino ai supereroi come Wonder Woman e dichiarazioni d'amore spontanee al «altro» e a una vita e una se stessa che negli occhi dell'altro trova di volta in volta sfumature per riconoscersi, amarsi, procedere con la condivisione di sensazioni, tra studio e sentire. Traduzione e cura Annelisa Dolorato Opera in copertina di Patrizia Minardi Volume a cura, e con la traduzione di, Annelisa Dolorato